alfonso signorini non può certo rimanere in silenzio sbotta in tv a verissimo si scaglia contro pupo le parole del cantante sul gf non gli sono affatto piaciute ha sputato nel piatto dove ha mangiato abbondantemente ingrato sottolinea il 59 n enzo ghinazzi nei giorni scorsi in una lunga intervista rilasciata alla repubblica in cui parlava della sua carriera sul reality show ha detto ho fatto per due anni l'opinionista del grande fratello vip c'era la pandemia e avevo poco da fare ma non ho mai visto un minuto del grande fratello in vita mia c'era chi lo seguiva per me un autore tv io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva signorini replica duramente il giornalista presentatore del gf anche quest'anno è rimasto sconcertato dalle parole di pupo e stata una doccia fredda con lui ho sempre avuto un buon rapporto e sentirmi dire delle cose da lui mi ha freddato io credo che pupo sia libero di esprimere le proprie opinioni il grande fratello può piacere o non piacere ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta spiega ancora alfonso lui ha detto che ha accettato la proposta perché eravamo durante la pandemia e non c'era altro la pandemia non era ancora iniziata tanto che le prime puntate le abbiamo fatte in studio da cinecittà poi ci siamo trasferiti a milano io e lui quindi non è vero quello che ha detto poi se un programma ti fa così schifo non rinnovi un contratto per la seconda volta signorini poi lapidario conclude caro pupo sputare in un piatto dove hai mangiato molto abbondantemente visto come eri pagato non è stato elegante il cantante sul social risponde sono ancora in russia a ekaterinburg mia moglie mi ha detto di aver visto il mio amato amico alfonso signorini alfonso io e te ci conosciamo troppo bene non dubitare mai della mia lealtà e della mia onestà tvb grazie